E' sceso per gettare la spazzatura e ne è approfittato per farsi una passeggiata senza neppure una mascherina o un altro dispositivo anticontaminazione, incurante del fatto che era stato trovato positivo al coronavirus. Un triestino di mezz'età è stato così sorpreso dalla polizia locale fuori casa mentre passeggiava tranquillamente per la strada. L'uomo ora dovrà rispondere di procurata epidemia colposa, reato che prevede la reclusione da 3 a 12 anni. Il controllo è scattato come conseguenza di un altro episodio. Qualche giorno fa un giovane è stato fermato dai vigili mentre circolava nonostante i divieti. Il ragazzo ha spiegato che doveva recapitare la spesa ai genitori e alla nonna. Dalla verifica dell'autocertificazione però è emerso che la residenza dichiarata dal ragazzo non era veritiera. Convocato per chiarimenti, il giovane ha spiegato di essersi allontanato dalla residenza anagrafica poiché i genitori si trovavano in quarantena. Un'ulteriore verifica ha permesso agli agenti di appurare che il padre non era nella lista delle persone sottoposte a quarantena ma addirittura in quella dei positivi al coronavirus. Così gli operatori del nucleo di polizia giudiziaria si sono recati al domicilio dell'uomo la cui moglie ha tranquillamente ammesso che il marito era andato a gettare la spazzatura. Gli agenti in borghese lo hanno quindi sorpreso a passeggiare tranquillamente. Intimato all'uomo di rientrare a casa e messo al corrente del reato commesso, questi ha minimizzato l'accaduto. Dovrà rispondere di procurata epidemia colposa. Il comandante Milocchi ricorda che in caso di positività riscontrata, oltre all'ovvio obbligo di non uscire di casa, le persone ricevono un'assistenza particolare, con severe procedure anticontagio dalla nostra protezione civile. Ad esempio, i pasti e poi i rifiuti devono essere inseriti in un doppio sacco. Intanto sono 4.424 le persone controllate ieri in Friuli, Venezia e Giulia dalle forze dell'ordine. Di queste, 202 sono state sanzionate per inosservanza. Si registrano inoltre una denuncia per falso e 14 per altri reati.